L'ospedale va salvato, la sua opinione sulla questione? Diciamo che il ponente è stufo di dover accettare passivamente le scelte insensate e inspiegabili che vengono fatte sistematicamente oggi dalla regione Liguria, domani dal commissario Contellessa e dopo domani forse da nessun altro quando sarà appunto ormai lasciato al caso o al destino. Oggi credo che sia un momento importante perché i sindaci, perché le associazioni, i sindacati ma soprattutto i cittadini vogliono manifestare la loro rabbia perché hanno il diritto sacrosanto di avere la difesa della loro salute e della loro socialità nel che vengono in questo territorio. Per troppi anni, venti, è stato smantellato sistematicamente l'ospedale e l'ultimo atto questo di ridurre la potenzialità del pronto soccorso è la voce che ha fatto l'applicato. Il prossimo passaggio sarà di informare il documento comune e portarlo in qualsiasi regionale.